Ciao Fiorelline e Fiorelline, non mi guardate i capelli che oggi ho preso pure un po' di acqua perché sono riccia e perciò mi si gonfiano, poi non mi sono messo l'olio quello per risciare i capelli ma la prossima volta me lo metto, ieri mi sono messo il smalto di Rachele e niente, adesso oggi facciamo video a spesa perché è il primo del mese speriamo che riesco a metterlo, faccio il video nostro, il video di Rachele e cercherò di mettere il mio video nella mia spesa e adesso avvia la sigla e iniziamo a far vedere cosa abbiamo comprato ecco, iniziamo adesso, mettiamo il telefono qua allora, abbiamo comprato dell'affettato il salame 1, 2, 3, 4, 5 e 6 poi ho comprato questo qua per il guerrino morbido poi lo metterò dentro i sacchettini e lo dividerò poi ho comprato questa qui, è senza lattosio per me, per me, 2 pacchetti poi, questo è sempre lo stracchino, 2 pacchetti perché questo dovrebbe essere un altro ecco il terzo poi, le cipolline che è quello che mi fa a mettere la cipolla e abbiamo comprato questo salame salame, sì salame felino, IGP ebbè, questo qua poi, questo, iocca quando mi faccio iocca con i pomodori dentro dovrei avvicinare l'acqua ecco un altro ah fatela comprare, mostrare, quel lino un altro un altro la mozzarella e pane morbido e la mortatella ora lo contiamo 1, 2, 3, 4 no mortatella, è il prosciutto cotto ah no, mortatella 1, 2, 3, 4 di mortatella e questo è sempre tutto cotto 1, 2, 3 ok, 4 ore ah, rompe, sì mi è passato sopra il piede e intanto facciamo vedere lo scontrino abbiamo speso 153 euro e 92 che vi farò vedere speriamo che si vede non so se è servito perché vabbè e poi poi l'insalata queste sono le banane famiglia mi sa se le caspe sanotte banane e poi ho comprato le mele le pepsi poi ho comprato le pepe che sono state e la pepsi una e due pepsi una e due pepsi una e due pepsi pensate che ci vince io non ci vince ma niente poi ho comprato tre anche tantico metrona e il formaggio peguerino un'altra busta basta la busta allora poi ho comprato le bracioli le rosette tartaruche perché oggi nemmeno 50 grammi di prosciutto crudo per pranzo un'altra e questa carne qua che tocca tagliata poi pomodori e allora questo qua che io quando mi faccio il sugo mio ci metto un cosetto di questo qua perché mi da sugo pomodoro così quando mangio io pasta poi che ci sta l'altra che la metti sopra una due tre quattro cinque sei e sette prendiamo le buste e un'altra vette biscottate una mia una ricordina io mangio posto del pane altre volte pavesini quelli che mangio io oggi ho trovato le merendine misura forse meno calorie non so misura una l'acidigia questa è sempre marmellata questa è l'acidigia e questa è pronta che posto bello poi un altro pane morbido un po' l'aceto reguerino perché mi piace l'aceto che prendo io io prendo quello balsamico e il suco uno pomodoro uno due tre quattro cinque e uno sei ok l'ultima busta lì prima busta ma quanto hai preso tu hai preso io due ah quello sei hai preso due io me ne ho preso una poi questo è il pomodoro mio poi gazzosa una due tre quattro finite poi la pasta una pasta due tre quattro cinque sei sette otto nove e basta poi questa qui è per il mio gattino che il mio gattino mi piace solo miglior gatto mi piace solo questa marca qua non lo so perché venite la nostra ok adesso possiamo lasciarci questo video io io registrerò quello di rachere che lo vedrete l'altro giorno ciao ciao